Il nostro lavoro è molto carico, molto ottimisti. Zero Gravity è relativamente giovane perché nell'arco dei nostri 50 anni è la neonata degli ultimi due. Quindi ha bisogno di tempo per essere capita e soprattutto percepita nel mondo dell'abbigliamento maschile. Sicuramente svolgerà un ruolo fondamentale nel ripensare l'abbigliamento maschile in termini di leggerezza, portabilità, comfort, comodità. Quindi nell'ambito di questi concetti ogni stagione studiamo un nuovo prodotto. Con queste iniziative noi crediamo che di stagione in stagione la Zero Gravity possa crescere. Sono venuto volentieri a partecipare a questo evento. Calcio, moda, sono il brand italiano forse più importante, con la cucina anche. Quindi insomma è un bel abbinamento. Tombolini lo conosco da una vita, sono ormai di famiglia e quando c'è queste manifestazioni, questi eventi mi fa piacere partecipare. La cravatta e insieme alla cravatta la pochette. Cartellino giallo, cartellino rosso. Ma direi un bel vantaggio perché è un bel abbinamento e stanno bene insieme. Vantaggio sicuramente. Cartellino giallo. Ma secondo me è un cartellino rosso in quel caso. La sneakers sull'abito da sera. E questo è un bel cartellino rosso. Rosso tutta la vita. Rosso. Siamo con gol. È un rosso ma dipende da chi la porta. Gravattino stretto, visto che ce l'ha lui, direi che è un super vantaggio con anche la segnatura della rete. Segnatura di una rete. Vantaggissimo. È un gran gol secondo me. Doppio petto con i jeans, un bel cartellino rosso. Di che tu? Non mi piace. No, secondo me ci può stare, dipende dal panno del doppio petto ma ci può stare. Ma io faccio giocare, faccio giocare. Rosso con un paio di giornate di squalifica. Addirittura, io stavo dicendo bellissimo, un gran gol. Stavo discordi. Niente, va bene, dai. Da una punizione, anche una doppia munizione magari con il cartellino rosso. Quante giornate? Eh, almeno tre. Io sospendo la gara. Rigore con rosso. No, io non scendo in campo, rimango negli spagliatori. No, io non scendo in campo.